Sono in live, quindi... ok, lo vediamo. Come sempre, mettiamo tutto, le chat, che se no non si capisce niente. Allora... Spero che ora tutto bene, ragazzi. Spero che, ragazzi, un attimino che sto prendendo le chat, altrimenti non capiamo... Non posso leggere, no? Allora, andiamo subito. Vi avverto che potrebbe effettivamente esserci delle telefonate durante la diretta, quindi nel caso continuerò a giocare, ma un attimino col microfono... Quindi spento. Quindi se per caso mi vedete che mi muto, è perché semplicemente mi stanno telefonando e quindi non posso... Assolutamente... Non posso rispondere, comunque non posso giocare con l'audio, ma è una cosa di poco, è una cosa infinita. Quella! Ciao! Benvenuta! Grazie mille per il follow. Allora, prima di tutto per chi viene e pensa che sia un canale, quindi anche se non sono un pro, purtroppo vedrete delle cose allucinanti. Quindi, ecco, vedrete delle cose oltre i confini del mondo. No, scherzo. In realtà non sono un pro, però uso i giochi per chiacchierare con la gente. Grazie a te. Figurati, è stato un bel argomento. Mi ha fatto un po' tornare indietro quando... Perché ormai io sono vecchietto, ormai... Ormai sono abbastanza... Abbastanza retro. E quindi, insomma, mi ha fatto tornare indietro di tanto, quindi a me ha fatto piacerissimo. Poi, vabbè, ho visto che fai anche cinema a tratti, mi sembra. Quindi sul cinema, ok, mi trovi. Perché io parlerei ore di cinema, assolutamente ore, ore, ore. E... Infatti, io ho un amico che è regista, infatti... No, 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 no. Ho un amico che è regista e mi porta anche sul set, dove lo aiuto, ecco perché... Parlo sempre di queste cose, anche. Quindi ecco perché. Intanto ci siamo tolti perché sta arrivando una tempesta. E per chi ha visto i film di Mad Max, sono tempeste rognose. Tipo... Tempeste di sabbia, brutte anche, brutte brutte. Andiamo a parlare con un tizio improponibile che è di sopra. L'altra volta è parlare di Oscar. Ah, io gli Oscar accidenti, c'ho una... Diciamo, una rivalità con gli Oscar perché... Purtroppo tanti film sono completamente apolitici. Wow! Ah, sì! Non far caso al Nightbot è che non sono riuscito a toglierlo, però non ti va, non fa niente, ti rompe così. Sì, il mio amico mi porta sul set, è un regista. Gli do una mano con l'audio e fare qualche ripresa. Io Oscar ce l'ho veramente a morte con gli Oscar perché... Eh... Molti film che vincono personalmente non li trovo da Oscar. O vincono per motivi politici. Ma credo che quello sia... E quello purtroppo è così. Per motivi politici vincono tanti film, eh. Che magari sono peggio di altri... Però vabbè, non ci può fare niente. Purtroppo è tutto politico gli Oscar, quindi niente. Infatti anche io, il mio amico, non lo riguardi. Cioè, so chi vincono, ma... Non li guardiamo. Poi ovviamente su questo canale c'è tutto. C'è giochi così, c'è peggio, c'è fifa, portavo retro, ma... Il mio pc è veramente una cosa... Abominevole, fa proprio schifo. Quindi per adesso non ne porto, però porto un po' di tutto. Porto un po' di tutto. Allora, qui per chi non ci ha mai giocato, è tratto da Mad Max l'ultimo. Che faranno anche il quinto, perché hanno detto che faranno anche il quinto. Quindi questo è una bella cosa. Non so dove devo andare, perché sto diventando cieco, quindi... Si, ho visto. Quindi sto diventando cieco, quindi... Questa purtroppo è l'età che avanza, quindi... Ormai non mi ci devo neanche fare testo. Ah, ecco, però lì non possiamo entrare. Mi sa, non possiamo andare. Ah, intanto buttiamo giù il convoglio, ecco. Quindi la storia di Max che ha ucciso, anzi, ha sparato, ha buttato... Scusate, non vorrei fare un doppio senso, una sega in testa. E non è una battuta, proprio è una sega, quello per tagliare il legno, diciamo. Ciao Andre, come va? Tutto bene, Andre? Tu? Quindi ecco, dobbiamo sconfiggere lo Scrotus, che non è colpa mia del nome, si chiama così. Quindi Scrotus, sega, io mi dissocio, però è il gioco, non è che... Non ci posso fare niente io. È così, è così. Quindi uccidiamo questo Scrotus perché ci ha rubato la macchina che è figa. Ciao. E quindi ha rubato la nostra macchina perché era la più figa di tutte, lui non se la poteva permettere e ci ha rubato tutto. Nel mezzo abbiamo ancora un po' di missioni. Oh, capite così ragazzi, non ci posso fare niente. Perché? Perché Andre? Che è successo? Dimmi. Oh! Ha! Tiè. Dimmi tu. Tutti in quarantena? Eh, io purtroppo devo lavorare, però una buona notizia è che l'ultimo giorno di lavoro è domani, perché poi sono in ferie per una settimana. Io purtroppo lavoro con gli anziani, quindi non posso dire facciamo quarantena. Cioè, io devo uscire anche con la quarantena. L'ho fatto fino adesso, però da domani sono in ferie fino al, fino al 7. Buena! Grazie per essere passato. Come stai? Ti ha dato ancora problemi Crash? Poi sono uscito perché dovevo fare un paio di cose. Grazie comunque del follow, come sempre. Ho fatto da mangiare, ho pulito. Ciao Ed, ecco la mia modellatrice. Crash. Non sono abituato a stare intanto in casa, tutto a posto finito. Ma è ancora cristalto con Crash. Prima ho visto che va a Crash, ragazzi. Andre lo sa perché io l'avevo portato su YouTube Crash. Mi ha dato un sacco di guai. E basta! 100%. Mamma mia, io proprio figurati. Ho la pazienza che è molto poca, quindi. Ecco, gli diamo dei colpi alla macchina in realtà solo per un motivo. Perché dentro ci sono i rottami. Questo ve lo consiglio di portarlo in live se siete fan del film. Intanto l'ho fatto con la barba. Sembra Moscardelli, effettivamente. Crash in Racing lo... No, lui portava Crash i primi 3. Stava portando il 2. Normali tu dopo 3 le si inizia con... Ah, col terzo. Il terzo è figo. Anch'io li ho praticati tutti e tre. Mizzica, ma... Sì, dei mostri. Io no. Io non ho pazienza. Non ho pazienza. Ma infatti io non sono pro gamer. Io faccio gioco in realtà per parlare con persone. Perché il gioco è un modo per accumulare gente. Per fare due chiacchiere. Andre lo sa benissimo come lavoro io, diciamo, tra virgolette su YouTube e su Twitch. Mi fa piacere. Portata di Resident Evil Resistance. Ah, sì. Beh, io di Resident Evil ho cristato già quando ero sulla PS1. Ti avevo detto, grazie. Per patinare quelli a tempo avevo gli apostoli a mio fianco. Ah, 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 ah. La cosa io che faccio nel canale è che piuttosto leggo tutti... Metto in pausa, ma leggo tutti, eh. Cerco di leggere tutti, metto in pausa la gente. Quindi io... Se vedete che metto sempre in pausa è perché voi mi state scrivendo. È open world? Sì, è open world. È open world, vedete? Qua c'è tutta la mappa. Vedete? Guardate quante ne abbiamo. È open world. Carino come gioco. Devi fare tante cose. Io ho già Everspace e Mafia da provare. Anche se Mafia l'ho già finito, quindi poi andrò con quelli. E dobbiamo buttare giù, vedete, le influenze di Scrotus. Lo so, ragazzi, Scrotus sembra una parolaccia, ma Scrotus è il nemico. Devi vedere la mappa di Disco. Poi la vedrò. Dobbiamo ridurre l'influenza di Scrotus su tutto questo territorio al momento. Poi andremo qua e poi uccideremo il nemico che è Scrotus, che è qua, a Gastown. Però fino ad allora ce ne vorrà tanto, eh. Non ci vorrà veramente tanto. Dovremo fare casino, eliminare gente... Parlo. E andremo con la nostra macchina col gobbo di Notre Dame, alle nostre spalle, che è lì. Che lui è il nostro meccanico. Attenzione, eccoli là, guardate. Vedete, poi a caso becchi sta gente. Ma per caso vedevi il tasto abbonato? Non ci ho fatto caso. Non ci ho fatto caso, sai. Non si può sentire. Scrotus. Eh sì, sembra che sto dicendo una parolaccia. Ma non è colpa mia, ragazzi. Non ci posso fare niente. Non mi ha mai preso. Eh, ma perché magari è per chi vede... Uh, il condo, il convoio. Perché... Ah! Sai perché Ander? Perché non hai visto il film, magari. O comunque non ti piace il film. Non ci ho fatto caso se c'è il tuo tasto abbonato. Perché tu c'hai l'affiliazione. Tu c'è le patate, stasera clara, le patate e le kiwi. Ah, ok. Vedete. Qua arrivano anche ricette. Si sta parlando del gioco. Arrivano ricette. È a caso. Ecco qua. Andiamo a inseguire il convoio. Ma è carino anche come cosa. Qua alla fine... Una buona uccinetta. Sì, sì, no. Ma lei, così lei è salutissimo. Io che con la quarantena mi sto riempiendo di patatine, di schifo. Impossibili. Quelli non li smaltisci dopo che è finita, eh. Mamma mia. Eccolo qua. Tiè. Toff. Qua stiamo... Dovevamo buttare giù un convoio che è un modo per indebolire parecchio il... Vabbè. Il nemico... Eh... Signor... Il signor... Scrotus. Lo so che è una parolaccia da quale io Twitch mi dissocio completamente. Attenzione, vedete? Si fa così per buttare... No! No! Ah, è uno! No, 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 no! No! Eh, vattene! All'inizio è difficile, eh, perché... Ti mancano i proiettili... E poi c'hai quelli dietro. Ma poi con... Con due o tre proiettili... Allora... Tu che mangi di buono, se posso chiedere? Come opera vuoi preferisco Days Gone Far Cry GTA... Beh, ma cavo, ma GTA è bellissimo GTA. Watchdog 2... Prima o poi lo prenderò. Far Cry non ci ho mai giocato, ci devo giocare. Un attimo fa avevo... Fatto un frulletto... Kiwi, mela e banana. Buono, vero? Buono, buono! Ed è quasi uguale a me. Io ho meglio il pollo a limone... A pezzetti basato al forno. Io ho polpite questa sera e mi dico... Ma... Imparate di mangiare tipo alle sei! Che ora è? Sono le sei, allora! Allora... 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 Io mi sto mandando le patatine. Proprio da schifo. Ma ehi... Cioè, tanto io posso perché... Senta lei! Perché non si toglie di mezzo, grazie. Vedete? Il convoglio è quello lì. Per buttarlo giù... Non dobbiamo... Eh... Guarda, guarda questi qua. Infamone qua. Buono, anche le polpette. Viver chip. Esatto. GTA proverso online per la play. Ma non mi piace. Eh, ma io non gioco quasi mai online. A meno che non conosco la gente con cui gioco. Cioè, quello... Io, così a caso... Sto facendo il conto alla rovescia per cenare. A chi lo dice? Ma io online personalmente non gioco. Per un discorso che non so mai chi c'è. Io ho giocato un paio di volte a Call of Duty online. Mamma mia. Ma tanti anni fa, eh. Oh, ma mi hai rotto le... Ma hai rotto tre quarti. Però è basta. Oh, ma che... Guardate questo. Non mi vuole dispercare un proiettile per questo scemo qua. Eh, basta, amiche. Ma non è possibile. Due proiettili ancora. Più avanti diventa... Pensate che diventa ancora più difficile avanti, eh. Preso. Poi la macchia, ovviamente, si indebolisce a un certo punto. Perché la macchia si indebolisce. Consiglio che ogni volta che io entro, arriva qualcuno e mi sparo o mi investe. Siamo anch'io. La prima volta che ho giocato a GTA Online... Ero da solo. Ho detto, vabbè, dai, giochiamo. Sarà così orribile. Mamma mia. Non l'avessi mai fatto. Mi hanno iniziato a sparare. Non riuscivo a giocare. Niente. Bisogna un attimo rinunciare. Ecco, questo succede, infatti. Quando tu hai la macchina oltre una certa foglia... Eh... Vedete, ci vuole il meccanico. No? Peccato, potevamo farcela, dire il vero, eh. Andiamo. Forse possiamo farcela. Andiamo. Esatto. Su GTA Online se uccidi altri utenti danno diversi punti. Sì, vabbè, ma... Cioè, se io voglio giocare per cavoli miei, senza... Senza Amy, deve arrivare uno a rompermi. Cioè... A interrompere il gioco. Ecco perché io preferisco l'offline agli online. E che palle, oh! Ma... Infatti io non amo moltissimo la versione... Cioè, qualsiasi gioco online non mi va. Ma che... Basta, infatti, devo uscire dal veicolo. Purtroppo abbiamo fallito. Non siamo riusciti a distruggere quello perché ci hanno attaccato. Sì, io non gradisco nessun tipo di gioco là, a meno che non conosco con chi sto giocando. E va, te ne va. Cioè, se io sto giocando con qualcuno che conosco, dico, ah, vabbè, ok. E basta. Attenzione! Ah! Se hanno un'esperienza fanno bene, è chiaro. È sbagliato come ti puoi un'esperienza per uccidersi a vicenda, secondo me. No, ma vabbè, ma se... Ma scusami, ci dovrebbe essere qualcosa, secondo me... Che non ti... Oh! Eh, che palla, oh! Ci dovrebbe essere delle cose che impedisce, magari, a... Se io voglio giocare tranquillo... Infatti, oggi ti ha... Diciamo che quando ho giocato ero con un'altra persona, che abbiamo fatto un gruppo. Così lui, quando è uscito, non ho avuto problemi, ho cazzeggiato. Ecco, per esempio, qua non c'è una cosa online. Cioè, su Mad Max non c'è una modalità online. Che secondo me qua soteva starci tranquillamente, no? È una modalità online, secondo me. Non era impossibile metterla. Non l'hanno messa. Intanto io vi leggo sempre, eh. Come avete visto, che siano 10, 20, 5... I messaggi leggo di tutti. Vedete, si ricomincia da capo. È questo il problema, che... Scusi. Addio. Attenzione, perché qua... O non ce la faccio ancora. Devo forse ancora farcela ancora. Devo ancora... Ecco, appunto. Mamma. Allora... Non so se ce la faremo. Stasera... Mentre mangio, l'altro fin di dare argento. Lo so qua. Ecco. Dare argento, eh. Le gomme sono esposte. Ho capito, eh. Non posso fare niente. No, non possiamo ancora evidentemente... Non ho abbastanza potenzialmente la macchina. Potenzialmente, eccoli qua. Tiè. Poi escono dalla macchina... E sono stupidi poi. No, al cartaio no. Cioè, no. Con il gusto gusti. Ma il cartaio è brutto, ragazzi. Ma che dite? Lo so, Anio, come la pensa. Ma... Veramente, è un film inconcepibile. Cioè, rispetto ai standard suoi, è inconcepibile. Ma poi, veramente, è proprio brutto, ragazzi. Brutto forte. Giallo, addirittura, per come è stato presentato e aveva degli attori come Adam Broglie e Emanuele Seigneur, ragazzi, ha fatto una cosa... Sì, però i gusti sono gusti. Però, ragazzi... Cioè, c'è Adam Broglie, che se non ero il premio Oscar di qualcosa... E Emanuele Seigneur, che era... È la compagna di Bolaschi e tu fai una roba, ragazzi. Barazzone. Sì, no, ho detto per me è inconcepibile, ho detto. Per me è un po' inconcepibile. Giallo è un po' meglio, però, ragazzi. Poi c'è la terza madre. Ma anche quello. Carità, sono gusti. Per come io ho voluto bene io, da reagito, ho fatto fino agli anni 80, 70, ho fatto della roba pazzesca. Per come io ho voluto bene io, poi. Dei gusti, bustutto, eh. Per carità. Vedetevi i semi di fulci. Di fulci che sono pazzeschi, eh. Sono veramente molto belli. La trilogia di là, sicuramente... Io ce n'ho due. No, ce l'ho tutti e tre. Perché io ce l'ho... Attenzione. Lì arriva gente... Cosa fanno questi? Qua! Uh, questo lo devo stare un attimo attimo. Perché ci sono quelli esplosivi anche. Tiè. Guardate di che roba. Dicevo che c'è la trilogia dell'aldilà, che è quella che secondo me è la più... Anche la più bella di lui. Eh... C'è... Però... Profondo rosso... Per esempio... Se lo vedo il mio addormento. Secondo me la gente è andata... L'oro moderno. Non è facile. Non si è adattato, sicuramente. Poi... È cambiato tutto. Negli anni 90... 80... Fino 80 hanno cominciato... È cambiato l'oro, sicuramente. Adesso però è improponibile. Uno stile horror... Vecchia maniera... È... È... Abbastanza difficile. Perché adesso si vive di jumpscare... E... E basta. Eh... Però... Io l'oro di una volta era veramente... Non... Non è che... Io personalmente amo ancora Profondo rosso. Me lo guardo volentieri. E... Diciamo che non ho queste... Non me ne d'accordo. Poi... Su altri film... Io l'altra volta mi sono rivisto Suspiria. Eh... Che secondo me è un bel film, assolutamente. Suspiria è un altro bel film, assolutamente. Eh... Che secondo me va visto. Eh... E basta. Suspiria, Profondo rosso vanno visti. Ma anche gli altri. Ma anche... Ma anche... Probabilmente anche i film minori di lui. Perché alla fine... Fa tutto... Cioè, per vedere anche... Un declino. Perché anche Dracula 3D, ragazzi... Io... Boh... Ma io l'ho visto e ho detto... Ma... Ma che è? Poi... Ripeto... Gusti, eh... Come dice Andre. Tutti i gusti sono. Declino soggettivo. In che senso? È tutto soggettivo, Andre. Come dico sempre nei miei video su YouTube. È tutto soggettivo. Sì, sì, sì. Assolutamente. È tutto soggettivo. È tutto... Cioè, qualsiasi cosa dico... È soggettivo. È chiaro. Questa è una cosa ovvia. È una cosa... abbastanza ovvia. Mi dissocio. Mi dissocio. Ahah... No, vabbè. No, per ora non c'è il... Mi dissocio, però. No, no. Comunque c'è... Veramente non... No, cos'è? Ahhhh... Ok. Chi è? Tutto molto soggettivo. Un film è... È chiaramente soggettivo. Oi! Non l'avevo neanche visto questo. Ma sto diventando orgo, davvero. Ok. 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 No, vabbè. Per carità. Cioè... Ma è chiaro che quando... Ma lì... Non... Ma anche se uno mi dice... Eh, non è vero... Bellissimo. Eh... Cioè quello che non si capisce... È che la verità assoluta non ce l'ha nessuno. Soprattutto sui film... Video, film, eccetera. Sicuramente. Cioè... La verità sui film non ce l'ha nessuno. Così come su tante altre cose. Ma neanche io ce l'ho. Perché... Io per esempio... Molti film dei Oscar... Sono... Sono di una politicità... Eh, vabbè. Ho sbagliato a dire. Sono stra politico. E... La cosa mi infastidisce non poco. Mi infastidisce... Oì. Questo da... Da dove era? Da dove è spuntato? A caso? Mi ha fatto un agguato. Mi dissocio dal Decree da Legend. Ah... Vabbè... Non tutti riescono ad adattare la modernità. Fini agli 80. No, vabbè. Ma i horror ormai... Sono tutti uguali, cacchio. Tutti uguali. Gli ultimi decenti... Secondo me... Sono stati... Eh... Il primo dei congiuri... Cioè... Quello delle vocazioni... È stato... Sinister... Gli ultimi decenti... Poi... Poco altro... Poco... Poco... Poco altro... Non... 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 Veramente ho visto poco... Poca roba. Ho visto veramente poca roba. Ho visto poca roba... Jumpscare... Rota di collo... Per esempio dei Nun... Che tutti hanno detto... È... Fantastico! a me personalmente non mi è piaciuto mai visto non li ripeto film or ecco, sono film fantasy sono film fantasy, aspettate arrivo subito arrivo subito intanto ti integrano il regolo no, no, adesso sono tutti no, ma non credo cioè purtroppo film or sono una una declinazione anche di quello comunque, cioè film or sono sono anche, vengono considerate anche gli esorcismi non posso incontrare neanche cosa animato vabbè no, per carità, io questo questo lo capisco anche questo effettivamente cioè infatti penso che c'è anche ragione però io li considero oro perché alla fine boh io li considero oro ma boh, per un motivo credo ovvio cioè per me oro è anche quello perché comunque ci sta, però va bene cioè, che chiaramente su oro paranormali chiaramente non sono realistici se vogliamo andare a vedere quello di un stai perché sono reali però io mi guardo che è successo ah, mi è arrivata una notifica però personalmente reputo anche quelli coi mostri interessanti no? oh, la modalità furia questa sì che e adesso li secco tutti tanto poi li seccavo lo stesso ehi no, si sta perpetrando troppo sta cosa attenzione ecco, un bel pugno opla sera buonasera e dai cadere adesso esce una storia comunque che che seria una pentola che cade una pentola che cade ma cos'è parola activity ma parola activity non è una zazzeria parola activity è è uno secondo me degli ultimi diciamo film quelli fatti a telecamera a telecamera in mano sì però di quelli di quella roba lì però vabbè quelli diciamo quelli ci può stare perché chi ci crede andrà per carità per chi è cattolico religioso eccetera eccetera a me sinceramente non mi dà fastidio il problema è andiamo a vedere proprio il film la qualità del film a telecamera aperta in mano scusate no aperta sono sono finiti con un paio di film secondo me con Rack la saga di Rack il primo che è stupendo a telecamera aperta che a dire sta a telecamera in mano scusate Rack è bellissimo Rack Rack è molto bello Cloverfield è molto carino Black Witch Project interessante nulla di che Rack è fatto bene Rack è fatto allo stesso modo di parlare dell'attività cioè allora mi spiego mi spiego meglio allora hanno lo stesso genere di tecnica registrica si chiama Monkey Monkey a telecamera no ora ti spiego no no non è a vestimi in realtà è così nel senso che sono fatti come base allo stesso modo a telecamera in mano comunque il problema è che uno è fatto da gente come si deve l'altro no l'altro mi personalmente non mi è piaciuto però sono entrambi a telecamera in mano poi che sono che diversissime sono d'accordo però la tecnica è quella è pazzesco ma è così oh attenzione venga arriva gente guarda che che li sto aspettando non è tutto si però c'è una componente di telecamera tu devi tu devi guardare anche quello cioè quando si va sul genere ti dicono eh la telecamera in mano anche se è metà comunque la base è quella comunque ma io ho fatto quel film ma a me non mi è piaciuto ma proprio zero non mi è piaciuto così come non era piaciuto quel film sui alieni che si chiamava il quarto tipo non ho capito se ne avevo parlato che è tutto a telecamera in mano una noia terribile non succede niente in un'ora e venti e succede tutto in dieci minuti un'altra un'altra film terribile la telecamera in mano è ESP ESP è un altro film io non so chi è che l'ha girato ma io ho parole va oppla hey buonasera vabbè stanno sfacciando la macchina mi sta bene oppla hey ah ma preso perché non mi sono riuscito a togliere porca vacca ma togiti di lì no finalmente si tolgono che stupidi ecco l'intelligenza un po' del computer lascia un po' desiderare qui effettivamente ok vediamo ah ok sono quasi vicino qua molto bene oh vabbè facciamo tipo i pirati che vanno a caccia delle navi noi siamo una specie di pirata perché mi comporto veramente come un corsaro che vado lì e butto giù le navi e mi prendo la loro roba e qua abbiamo lasciato una carcassa lì c'è un'altra poi ci siamo fatti la vernice che è tipo nera ok andiamo perché ti devo portare in un posto dove bombardarti ok ci piombiamo addosso vai oh che poi io l'ho visto con te è incredibile quante cose di specchi che sono subendo non l'ho visto quello ma ce n'è tantissime però evito veramente di guardare roba così adesso perché no mi urta mi urta tanto sta cosa devo devo ammetterlo a me urta tantissimo questa roba ma no mi urta perché non voglio guardare adesso attorno di spessore ci darò un'occhiata quando è finita sta roba ci darò un'occhiata adesso comunque è chiaro che molti film ma c'è più di telecamera guarda purtroppo blarewitch project a me non mi è mai piaciuto quello che è però posso dire che è stato uno dei primi a fare uno dei primi a fare questo tipo di tecnica a me personalmente non mi piace neanche quindi ah ok qua non ho bisogno salire la max è veramente carina chi è che urla attenzione eccoli qua attenzione ti è toto reagisce uno blu uno è colorante di blu chi è il prossimo e ora c'è la modalità furia eh beh allora raga ciao proprio buah ti è sto no è un sims è fatto proprio bene spiega come un virus alla cina si propaga se no c'è situazioni che sono accadute qua pedi d'assalto guarda ma facciamo pelle sui supermercati pedi d'assalto che tutt'ora sono presi d'assalto capito tutt'ora cioè non è che dici a tutt'oggi sono presi d'assalto capito cioè io sono andato ieri mattina cavolo sembrava veramente ma sono andato stamattina un assalto dietro l'altro sembrava che dovessero comprarsi quando hanno detto dieci volte venti volte che di stare tranquilli che il cibo c'è io non so cos'altro devono dire a sto punto comunque mangiamo un po' di dingo di che serve per ricaricarci la vita molto bene ottimo grazie molto bene molto bene lì ci dobbiamo andare dopo quindi dobbiamo cercare i rottami che i rottami sono la moneta sono la moneta di pagamento per comprare pezzi e altre oggettistica ah cellulatore di guerra che è rimasto lì ah bravo beh mettiamo la grazie ok stiamo buttando giù tutto yes grazie ok aspetta no di là si va di là qua ci sarà qualcosa sicuramente infatti guardate c'è un insegne del signor scrotus che mi dissocio ogni volta che dico quel nome perché potrebbe sembrare in questa situazione non guardavo siamo andati in cima però poi guardo no no lo guardo poi sicuramente lo guardo però no adesso non è che mi ansio purtroppo non ho visto guarda sto vedendo troppo da sta roba preferisco adesso no però dopo lo guarderò quando è finita sta roba sicuro sicuramente attenzione ma arrivano tutti eccomi fatemi sotto no ah ah die e adesso no che se fa una close line una close line mamma mia max è un wrestler professionista non lo sapevo oh si è senta lei allora quello è un puffo vestito da puffo blu ahia infamone hey oh a posto via abbiamo fatto abbiamo già finito senza raccogliere niente davvero la legione stank boom ok e non l'ho completata lorenz è bravissimo come attori ma non sono fan proprio di attori specifici nel senso uomini si donne si perché magari mi piacciono proprio ma uomini sinceramente c'è Bill Murray a me piace tanto Bill Murray è un grande quello lì Bill Murray è sicuramente uno dei miei preferiti c'è Kiss and Dust per quanto riguarda le donne non sono fan no vabbè ma proprio anche piacere non ce n'è uno specifico di un maschio è più femminile si no no è bravo certo ma io poi a me di capo per esempio non piace è bravo però non mi piace è bravo però a me non piace ci sono quelli a me piace molto Al Pacino chiaramente Al Pacino ma Al Pacino è è la leggenda proprio no no è anche brava no no non è una cosa dettata sta cosa ci sono quelle che giudico in quello ma Kiss and Dust è brava ha lavorato con un fior fior di registi no no quello assolutamente no no su certe no alcune di qua che bella ragazza e poi basta che senso ma in maniera ce n'è alcuni però non mi non mi sconquifrano cioè almeno non i nomi non mi da Oscar non mi piace quasi nessuno mi piaceva molto però mi ricordo mi si chiama Christian Wurz che ha lavorato con Tarantino a me mi piace poi mi piace mi piace mi piace Kurt Russell Bill Murray Al Pacino mi piace molto poi mi piaceva Robin Williams chiaramente grande Robin Williams ma poi più che quello poco altro in realtà mi piace magari per un film ecco mi piace i film non sono fan di niente nessuno io che su questo siamo due mondi obsessi io invece mi piace molto Christian Dust che adoro veramente come attrice che è oltre che brava oltre che brava veramente bella anche è una bella ragazza attenzione qua sono arrivati i miei amici qua però non riesco a trovare le cose non riesco a trovare tre insegne due rottani e una parte di esplorazione che palla quando riesco a trovare le cose cacchio ah qua c'è un rottano a caso Wolf of Street è stato sì è stato bello infatti a me piace come film ma non mi continua a non piacermi di cambio però è bravo è stato veramente bravo ottimo film veramente poi c'è ancora di più sì sì cioè a me Wolf of Street è un bel film non continuano più gemi di cambio magari ci posso fare cioè un po' buono bravo assolutamente ho altri gusti fatti di attore ma ragazzi se vedete della roba io non so dove trovare la roba ma dove cacchio è senti quello che fa sentite che rumori improponibili che fa no si è sfasciato fatti zopic neanche a me piace lui però sì è vero verissimo ma anche in in Django quello di Tarantina ha fatto una parte ragazzi pazzesca cosa di Caprio ma tanta roba davvero è stato veramente bravo anche lì poco da fa davvero cioè ne ho parlato anche nel mio video su YouTube ne ho parlato è stata proprio pazzesca da parte no ma poi ci sono attori bravissimi poi io giudico più o meno in base al film cioè da parte qualche raro caso tipo vabbè Ilari per esempio Ilari Duff fa tutto bellissimo anche se so che mezza roba che fa lei sono successi lo so benissimo che i film di lei molti sono brutti però per me è top assoluto e sarà sempre top assoluto qualsiasi cosa faccia sarà bellissimo però so benissimo che metà quasi metà forse anche di più fa schifo Dance and Watch da me piace chiaramente anche quello un bravissimo attore ha fatto dei bei film ma anche Brad Pitt ha fatto dei bei film non è un incapace non è che anche da bene ascolto mi può piacere l'unico ma non di più sì 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 ma per esempio anche anche Brad Pitt che tanti dicono ma non voglio fare recitare ha fatto dei film dei signori film dipende chiaramente anche dal regista perché ci sono anche magari ah ma si andava di qua ma vaffanculo ah vabbè allora Brad Pitt a me è piaciuto in qualche film tipo il Seven a me è piaciuto quello con Tarantino a me è piaciuto poi dipende dai dai registi quando lavori con un signor regista stai tranquillo che reciti ti fa reciti piuttosto ti fa rifare 300.000 volte la roba ma per esempio Kubrick era un perfezionista ti faceva rifare la scena un sacco di volte e infatti nel film che ha fatto c'è Tom Cruise e quel topone allucinante di Nicole Kid ma lui Tom Cruise si recita benissimo perché c'era c'era Kubrick là che se va bene gli avrà fatto fare le parti due o trecento volte ma no Clare come attrice è imbarazzante no no semplicemente lei è una brava attrice ma il suo ruolo è quello di commedie commedie americane modeste non puoi metterla sicuramente a fare un horror non puoi metterla a fare un horror secondo me si impegna è brava ma le sue cose sono le sitcom e basta e te lo dico a me che mi dispiace dire sta roba però è così per quanto io tutto quello che fa io me lo vedo adesso stavo vedendo Younger che io non riesco a vedere proprio insopportabile per me lo vedo per lei quindi c'è lei faccio cinque minuti poi salto poi la vado a rivedere e così via capito ah un insegno si anche ma onestamente non è peggio di altre altre sono proprio imbarazzate abbiamo ancora un una abbiamo ancora un insegno insegna no abbiamo ancora un insegna da togliere del signor scrotus probabilmente sono anche di parte probabile però io ho visto di peggio onestamente ma ma come attrice probabilmente è una cosa cosa proprio ho visto una volta lol mamma mia che roba ho mai visto una roba del genere ho mai visto uno dei più brutti che abbiamo mai visto in vita mia stiamo cercando l'insegna che cosa è importante con quella aspetta ma è lì eh no no eccolo là aspetta ma dove cacchio l'ho vista prima stiamo cercando lì ho il pezzetto del suo fin girato a Roma mamma mia ma quella era giovanissima poi non l'ha fatto lei era giovanissima mi sembra che aveva ancora 18 16 17 ancora i fin disney ma quello vabbè non fa testo ora ora onestamente non fa testo almeno c'è qualcosa che non va perché allora qua ci possiamo andare ma in realtà no è lei sembra però non aveva l'esperienza da adesso se la vogliamo mettere così perché comunque era molto giovane doveva farsi le ossa ancora sono abbastanza ingiudicabili ma vale per tutti eh vale vale per chiunque faccia carriera ci sono quelli che evolvono e quelli che non evolvono però mi indica che è qui però no vabbè adesso adesso è terribile proprio terrificante una delle cose più bieche che abbia mai visto ma vabbè ma altro discorso sulla roba italiana non bisognerebbe neanche guardarla perché è basso veramente di livello siamo livello è proprio basso livello siamo a livelli abbastanza bassi allora vediamo un po' di capire cosa fare adesso i cesaroni no dai i cesaroni come guarda di roba italiana posso salvare che io ho visto ultimamente quindi non è neanche salvo il tredicesimo apostolo che secondo me è carino che c'è Claudia Pandolfi salvo il bosco sempre di con come si chiama Claudio Dorie forse una cosa del genere se non ci sarò poi eh bu gli uno c'è i suoi gui poi di roba italiana ma scusami ma dov'è ma che cavolo ma ma no ma è impossibile ma no ma è impossibile il miracolo sì è anche il miracolo sì 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 adesso per esempio il cerno non so se è roba italiana o no ma non credo perché quella è veramente una roba pazzesca eh qua non puoi non posso buttarmi di sotto eh ah aspetta però però ah aspetta fermi tutti allora ma vaffan ma dai ah no ecco l'ho trovato ma 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 ce l'avevo davanti maledizione fatto anche il miracolo sì sì fatta molto bene anche il miracolo certo anzi sì sì ripeto poi saranno anche i gusti però personalmente io tante cose tante cose non ne comprendo la cosa vabbè come quelli che vedono tipo carabiniere ma invece che mi era piaciuta era i RIS la prima serie dei RIS molto carina per lo standard italiano abbastanza carina poi ma poi poco altro in realtà c'è una serie nuova che mi sembrava che era la luna qualcosa mi sembra la luna è qualcosa ma che è italiana che forse l'ha messa su Netflix che non l'ho vista ma hanno detto che è molto carina vai presa molto interessante comunque dipende poi la serie tv ce n'è ce n'è per così ragazzi non è che non stiamo ora a guardare le cose un attimino che cambio controller così ecco ora ci dovrei essere ditemi se c'è qualcosa con la lo cambio andiamo controller così è per qualcosa quindi bo si comunque parlando di flop della PSG dicono che la PS farà giochi in arrivato nella grafica può darsi ma è possibile non lo so è veramente possibile come no però come no io personalmente non lo so vedremo io personalmente non mi aspetto altro spero che faranno qualcosa di buono spero che faranno veramente qualcosa di intelligente almeno non la buttano in vacca come al solito allora siamo un attimo qua un attimo di pausa 5 minuti tanto sono qui che devo andare a fare una cosa perché sennò mi scartavetrellano le balle ragazzi vi ricordiamo quella aspetto dell'astovas 2 già ah beh sì un giorno lo porterò cioè non è una saga che sì ok bella ma non è che mi sveno 70 euro per sta roba allora intanto vado a salutare un po' perché sennò questa mi manda le mail dicendo perché non sono andato non sono andato ciao appena arrivato anche se è praticamente una live di merda e la sto finendo adesso perché non riesco a giocare a niente è una che cioè vado a preparare ma vabbè andrea io tanto mi trovi qui andrea se vuoi lasciare anche la live aperta è meglio è meglio è meglio ma è una tizia che ci devo essere perché sennò mi rompe mi scrive per i medici ma dove sei dove non sei cioè andati mi stai dicendo ah vabbè vabbè tanto mi trovi è una cosa si rompe i coglioni beh sono ritrovato ciao Claudio non ti sei perso niente proprio eh sì io gli ho detto che suolta fa la tesa che non è vero ma non ho niente contro il Sonic mi piace sì anche a me che c'è molto impersonale sì ma ragazzi no perché sennò mi rompe scuola però veramente ero curiosa di giocare ma sì ma vaffanculo io lo tengo un attimo aperto così ma poi sì no ma questa tizia su youtube fa gameplay e e cosa è successo guardami ora c'ha 9 spettatori eh faccio presente ne ha più di me andrea va bene andrea dopo ne ha più di me ragazzi come vai boh ok andrea buon appetito e ne ha più di me questa non so perché veramente non sai perdere tipo incapace arpionato ma c'ho all'interno di una nave che stigo ma vattene no no l'ho ammazzato così ma ce n'è più allora e quindi una sala simpecca dell'Aid insomma non mi piace purtroppo c'è una cosa che non posso controllare oh sì ho capito se hai bisogno di chi che veniva a drive just send la flare ultimamente oh non so ma ho tempo di quasi nulla e se magari ho tempo magari per fare una partina award of qualcosa capito ragazzi no comunque questo è quanto nel senso c'è una questa persona che va se tu non parteci ti dirà delle frecciatine eccetera che poi è assurdo è come se io vado a scrivere a tutti voi e vi scrivo ragazzi oh ma ci sei oggi ma se se mi metto a scrivere a 400 persone a 410 ora non so quanto siamo magari a 410 ma se questo vado a scrivere a tutti mi dico sempre se uno vuole partecipare parteci uno vuole partecipare non parteci fatto dov'è la mia macchina che c'è ma c'è il turbo questa ma dai via che c'è l'era non so per potermi ma scusate ma queste robe ora le distruggo dove c'è l'era perché c'è la faccina che è successo che non c'è nessuno vabbè ma se ne frega io ho vinto gli iscriviti vabbè la gente ho vinto gli iscriviti ma rimaniamo sempre noi forse stacca ecco bravo forse sarà il videomontaggio ma sì ma il problema di questa gente che purtroppo cioè si crea una specie di con dei personaggi abbastanza curiosi poi youtube non è diversa una donna fa qualcosa e quindi ha parecchie secondo me ne ha uno che gli fa il filo in maniera veramente terribile cioè nella porcheria fino alle 21 no intanto mancano poco più di 10 minuti allora si chiama card e scrive cioè secondo me chi va a scrivere a trecchinare gli iscriviti in quel modo lì non ci non ci fai tanto sempre più di me perché abbiamo vinto una 9 non 3 però io personalmente e faccio in a in 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 Opla Boh, però Dobbiamo fare le sue scelte Personalmente non E poi ragazzi, in realtà O stare, faccio stare E' solo C'è da un big, è solo nella mia testa Che non funziona Perché io sono per il fare senza aiuti Però in realtà Mi serve, in realtà serve Intanto qua abbiamo fatto tutto Allora andiamo di qua In teoria dovremo Fare un paio di cosine Ah, qua dobbiamo andare Lì, che credo che sia in realtà Un punto di salto Possiamo saltare E fare un mega salto Con il nostro Perché noi abbiamo il turbo Attenzione Lì c'è un pallino Infatti guardate Come ci andiamo addosso Ah Ah, gli ho matto Attenzione Gli ho No, no, no Non li ho presi Io in sera c'è una pericolosa Falina che svolta L'ho ciclata di uccidere Io in sera poi si è nascosta Ma no, perché la devi uccidere? Povera falina Ma che serve? La falina non fa niente Io lascio tranquilli anche i ranni Scorpioni Io in campagna Quando andavo in campagna Che erano Aspettate Che mi congedo Buon Proseguimento Sto saltando così almeno No, no Ma io ho lasciato Per esempio Quando andavo su in campagna Mi ritrovavo con ranni Scorpioni Tentavo la mia vita Eh, addirittura Eh, la Addirittura Andiamo proprio oltre L'immaginazione proprio Attentavo la tua vita Non l'ha detto Ma sono sicuro di sé Certo Sicuramente Alla fine Ragazzi Mi dispiace a dire Ma Faccio stare Serve Ma Non da Caggiumani Oh Oh Attenzione A caso Questi qua Sono attaccati Ve l'ho detto Che faccio il pirata Qua Faccio il pirata Faccio veramente il pirata Perché vado ad attaccare le altre macchine Solo uno Vai Oh 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 Ok Ok Io andavo su in campagna Avevo ranni Scorpione Avevo di puto Però le api Le api Le vesti Mamma mia Quelli mi facciano Spaventare Invece Quelle guarda Veramente Mi Mi dispongono Oh Di retromarcia Va bene Vai a mangiare Vabbè 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 Y Succeeds Succeeds A Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Oh, mamma mia. Ok, abbiamo buttato giù anche quella macchina. Ok, andiamo con quella macchina che ci si avvicina. Oh, mamma mia. 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 Andiamo, dai. Andiamo. Uh, forse l'ho preso. Eh, presto. Ah, l'ho preso in poco. Ah, però aspetta, lo devo portare a... guarda, ci sta. Ci sta. Allora, vado portando. Lo porto. Però no. Andiamo. Andiamo. alla... Allora di certo. Andiamo. 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 Ok, andiamo sempre nella cortezza, perché è lì che devo portare la roba, perché qua mi danno un sacco di gioco. Dai, vai, però, non può andare uno all'ora, dai, non è possibile. Ragazzi, non si può andare a cinque all'ora. Cioè, a cinque all'ora così, ragazzi, non è possibile. Ok, ora sì che va bene, ora sì, Max. Attrezzi, cosa abbiamo le armi? Spacca scudo. 300, sì. E poi andiamo in garage. Allora, l'arpione lo facciamo di una potenza superiore. Ok, quello no, perché no? Questo? E non possiamo metterlo? Ok, la vernice fotte sega. che brutta. Ma no, ma va schifo. Ok. Arcangeli. Abbiamo gli arcangeli. In realtà non abbiamo altro. Abbiamo solo tre cose. Abbiamo tre cose, ma davvero. e da intanto da questo non sono ancora andato. E poi abbiamo l'arpione che è veramente molto potente. Ora. e poi abbiamo abbiamo un'epidica di un'epidica di un'epidica di un'epidica di un'epidica di un'epidica di un'epidica che vuole trovare la nostra. dai c'è indietro c'è indietro c'è indietro ok fatto c'era un altro più avanti che però non ho non ho assaltato a rigore del 0 non ho fatto niente aia ok uno via ciao ok facciamo la riporta ok ah si è si è proprio come come fanno i pirati che assaltano le navi noi stiamo diciamo assaltando non le navi ma stiamo assaltando le mani mamma mia che disastro disastro veramente alto però vediamo come fa quello lì a non avere niente non ha un po' non ha una botta ma nulla non c'è niente qua allora ho sbagliato foto vediamo un po' di rotto della ricetta qua là andiamo sempre dritti eh altol'è posso mettere 3 più avanti di voted ... ... ... ... C'è un po' il terenito. Mi mai iamov qua? Mi iamov prima qua? Ma ma! Oii. Senta lei, ma cosa vuoi? Via! Mi sono andato a una cartella in faccia, poverino. Allora, qua è un accampamento, vediamo un attimo cosa offre questo accampamento, credo qualcosina offra. Forse un po' di rottami, spero anche proiettile, ma per ora, per ora no, c'è solo la benzina. Ok, vediamo un po'. Ah, di rottami, vediamo quanti ce n'è. Quattro ne abbiamo, ne avevo trovato uno, ok, quindi poi dobbiamo salire lì. Qua c'è in realtà la mazza, quella ci può essere utile. Due. Ok, molto bene, qua la apriamo. Ah, ecco qua, vediamo cosa c'è qui, cosa ci offre? Tre, eh, appunto, me lo immaginavo, potrei un altro rottami qua, perché non me li ricordo. Grazie dell'hoste, ganivere, grazie. Comandiamo? Ah, c'è un'ambulanza a caso. Attenzione, perché qua, poi c'è una macchina, però ah, no. No, vabbè. Figo sto qua. Uuuuh. Ops. Riporta, cade la fortessa? Ma non posso. Riportare una macchina. Mamma, questa sì che è. Ah, aspetta, ma forse devo schiacciare qualcosa. Ah, ma vaffan... Ma dai, non mi ricordavo già stavolta. Ah, ok, vedete, ah, vedete, ah, vedete, ah, hai capito? Questa è una bella... Oh, ma hai messo a uscire? Oh. Taccia, taccia, tacci, due. Eh, beh, certo. Ah, ah, ah. Bella sta macchina, mi piace. Però la mettiamo lì, la macchina. Com'è va fallout? Com'è va fallout? Tutto bene? Attenzione perché lì, all'inferno, c'è l'altro ottame. No, c'è un proiettile grande. Cartucci era piena? Appena un cazzo, scusami. Spero che fallout ti vada bene. Ma poi, quindi fallout purtroppo ha delle missioni che sono rompivalle. Allora, lì abbiamo la macchina lì e non la tocchiamo, mi sta bene. È la ragione che ci gioco. Sei riuscito a andare un po' più avanti, a sbloccare un po' qualcosa? Perché poi alla fine è tutto un discorso di pratica. Poi in una condizione sono veramente stupida. Allora, crea allenatore. Ok, che squadra hai preso? Qua non porta niente, vedi? Ah no, no, ma basta sta cartucci era. Che squadra? No, la cosa è qui. Quindi, ok, quindi la cosa è lì. Potrebbe essere in realtà qua? No. Potrebbe essere la funzione. La macchina è qui e va bene, ci siamo. Ora, ovviamente, gli facciamo il pieno. Non si sa mai che ci lascia a metà. Fai il rifornimento. Ok. Ah, ok, era piena. Amici, ce l'ha fatto pure il pieno. Mamma mia. Ok, molto bene. Wow. Sì, però, abbiamo ancora. E noi riusciamo a trovare carichi di rottami. Un rottame. Il carico di rottami è il mio. Ok, sicuramente il mio. Però non riesco a trovare l'altro. Ma pensa a te questa cosa, cosa devo fare? Ma pensa a te. Allora, su, allora. Ma che è? Non si trova niente qua. Non c'è niente qui. Perché? Quale motivo? Ma dov'è sto rottame? Rottami, ma le dici. Mentre mi fa veramente incavolare sto gioco. Infatti, non tutti riesco a fare. Non tutti riesco a fare. Non tutti riesco a trovare. Perché sono alcuni. Sono in posti che non si riesce a capire dov'è. Non sono vitali. Però è come trovare dei soldi in più. Però, aspetta, ma io di qua prima non sono stato. Vediamo. Ma questo livello mi sta trollando sto volto, dai. Mi trolla. Lì c'è il fuoco. Lì c'è una macchina carica di roba. E ci sta. L'unica cosa che non riesco a trovare è veramente... Ma... No, scusami, eh. Ah no, qua è dove ero prima. No, riesco proprio a trovarlo. Il carico di orezzame è questo. E vabbè. E l'abbiamo capito. Dai, vai, vai, andiamo. No. No. Ma no. Meno male che... Ok, questa non era evidentemente il carico. Vedete? Ok, quindi in realtà... Si trova qui questo. Si trova qua. Ma allora vedi che si trova? Avevo ragione. Ma che cavolo? Ma dov'è sto coso? Che ragazzi come si fa, dai. Per me è sto gioco e ti perdi. Ti perdi le ore. Le ore davvero. No, vabbè, scusa. Però vedi, è qua. 200 rottami e accampamenti. Però... Dai. Sì. Non riesco a trovare dov'è. Non riesco a trovarlo. Non riesco a capire dove può essere. Che mi indica... Vedi, c'è l'indicatore, ma non si capisce dove sia. Io secondo me è lì dentro, dove ho preso la macchina. Non riesco a trovarla. All'interno... Qua. Che sia qui? Poteva essere di nuovo qua. Però non c'è. A meno che non si... No, vabbè. Ma... Ma... Ma c'è. Pensa a te. Carichi di rottami l'ho trovato. Quindi era lì. E qua cosa c'è? Niente. Carichi... Ci manca un rottami. Il carico l'abbiamo trovato. Ma guarda te, c'è. Ma no. Eh, non riesco a trovarlo. Tutto su un mato non riesco a trovarlo. Ma so anch'io probabilmente che c'è. Non riesco a trovarlo. Sembra che qua avevo dei punti. Qua ce l'ha. Vai. Adesso, infatti... O-pla. Abbiamo tutte le armi piene. Quindi adesso, in realtà, dobbiamo solo trovarli in rottami. Perché non riesco a trovarlo. Non so per quale motivo. Non riesco proprio a trovare. È come cercare un ago in un pagliaio. Mmm. Boh, secondo me possiamo anche andarcene a sto punto. Che tanto non riesco a trovarlo. Non è fondamentale. Abbiamo anche la macchina nuova. Possiamo anche andare di là. Abbiamo la macchina nuova che è quella. Che non so che modello sia. Sembra una di quelle da rally. Guardate. Bella. Tra l'altro parte il giallo. Che il giallo mi urta un pochissimo. Ok. Andiamo con questa. Che ha la missione. Questa ha tre turbo. Quindi è più avanti della mia. È più avanti. Vediamolo. Eccolo. Andiamo qua. Però è qui. Allora. È da schifarti eh. Incontro con la leggenda. Sì. Eccolo là. Ok. Questa bisogna poi riportare indietro. Qua c'è un coso. Qua. Dove era prima. Qui è grifa. Qua. Ah. Qui è jet. Però ormai siamo qua. Ok. Ok. Questa è sfida della leggenda. Leggendare qua. Ok. Vediamo un po'. Fatevi sotto. Tiè. Mamma. Cosa di porco. Ah. Ce ne sono solo due. Ce ne sono solo due. Ma no. Ma dai. Pensavo di più. E quale leggenda è allora. Se non c'è niente qua. Vabbè. Attiviamo la bomba. Quindi devo uscire. Per fortuna che. E. Quando esco esplode. C'è automatica. Cioè non è che esplode con me dentro. Ma per fortuna. Ho il tempo un attimino di guardare. Se c'è qualcosa qua da fare. Ma credo di no. Possiamo uscire. Dov'è la macchina? Oh. Molto bene. Molto bene. La macchina non ha problemi di questo tipo. Possiamo andarcene via. Lì c'è un convoglio. Ma noi non possiamo ancora. Ehm. Confrontarci. Ma è un po' lenta sta macchina. Non ha il turbo proprio. Sì. C'ha il 3 di turbo. Ma. Va simplement hanno messerati le personali. Ma non mi sembra, se va a dar bene in cima. Ma in cima va a dar poco bene a me eh. Ma non. Ok, stai illuminando qualcosa E' una bella macchina Ah, è curvo, va benissimo Ok Ok, possiamo andare tranquilli Andiamo tranquilli La nostra macchina è veramente instabile Però se aumenta troppo il peso Questa non va più avanti Se aumenta il peso Ma anche non va più Va piano Non c'è adesso là Vai Vai Ok Ok, vai Anche questo mi dà dei bei Allora è lì con voglio Qua c'è Grifa Possiamo andare prima da Grifa Questa è vero Oh, il cecchino Oh, Dio Ah, lì c'è un Ah, ecco perché Lì c'è un Accampamento Ma non l'avevo mica visto L'avevo visto che c'era una cosa Che poteva ricordarlo Ok Ok, lì ne stanno spuntando A così A go go Mortami Mortami Chivo organico Buono eh Ok, andiamo nell'altro Che invece è qui E' un altro qua Ma dov'è? Ok Ok Basta? No, c'è ancora qualcosa Un aperto storico Chiaramente è da sta parte È chiaro Questo è tutto È tutto l'accampamento Mi sa Vediamo se c'è qua Ma strano Non lo trovo Lì c'è Qua c'è uno Ancora cibo per cani? No Mangia cibo? No No, no Non è ancora lì Quindi evidentemente È un aperto storico Ok Ok, vediamo un po' qua Ah, in teoria ci dice di avvicinarsi Però non so dove sia Un aperto storico Potrebbe essere da queste parti Eh Vedete qua ti indica la roba Ma non Non lo trovi Non lo trovi E quindi Non sai dove può essere No Con delle lattine Mi indica qua Non è che non sia lì Ma Ma Trovo difficile Che sia qua La trovo veramente difficile Non è che non sia lassù Ma come ci arrivo lassù? Mmm Potrebbe essere lassù però Non è Non è escluso Non è escluso Possa essere lì Andiamo avanti No Ma C'è qua Ma guarda dove è andato C'è Ma è pazzesco Ieri Mi dicevo Ovviamente Sfizzata Ha aperto il fuoco Contro me Richard Lui è stato colpito A successo Esplosso Un mucocomoro Lascerò che capiti Anche a me Non sarà sopravvizzata Appunto Ma che so Ma che so Amaro Dice che era un po' voglio Bisogna anche provare Dice che era un po' voglio Mi piace Che è un po' voglio Dice che era un po' voglio Dice che era un po' voglio Ok Oh, attenzione, mi sono disparito a parte di uno a noi, mi è andato a metterci anche a questo. Ok, siamo dietro. C'è un tiratore. Ah, si è. Fatto. È uno. Ok, allora. Ok, allora. Già che è cero, c'è altro un suo pacoglio. Ok. 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 Il ritorno è morto! Degli apparitori sono morti! Oh Stupido Non lo escemo Ecco Tiè Ho fatto Ecco qua E non è che Ci ha fatto tanto però Oh Ok Ok Vediamo un po' Bene 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 Tanto ora gli butto giù tutto Ecco Ecco Tre Ok Eccola eccola qua Tutto bene? Ho fatto una buona cena Uno 1300 Comunque abbiamo tanti rotami Possiamo anche Riutilizzare Non adesso forse Ma quando ero sbloccato Abbiamo ancora con le due macchine là Mi inquietano E quindi andiamo a buttare giù Ah E' uno Vediamo se iniziamo Due Sto Mangiando i cracker Patate e kiwi Guardi la Ti rovini qua eh Patate e cracker Sto sgrandocchiato un po' di patatino Ho preso un po' di Ho detto Maxi dai Se ne frega Per combattere Una cosa della quarantina Tanto Maxi Si immerge nelle fiamme Tak Succa Si No Ok Ok Succa Succa allora ma che cavolo ma si per una volta ma siamo al solito modo un po' perdi un po' ora poi guardo hielo stiamo quindi a 1.400 e però non credo di farci niente però vediamolo abbiamo questo che ok questo cosa aumenta niente questo ok questo devo ancora sbloccare questo buco è schifo questo tipo lo l'ho sbloccato posseduto e poi ok le altre cose niente quindi andiamo a vedere qua qua abbiamo un po di roba dobbiamo andare da grifa dobbiamo andare da grifa che è quello che ci dai tutti vediamo e lo subito o la... lui si rinchiude sempre in qualche anfratto della terra quindi non andiamo noi non ci vuole la macchia non ci vuole non ci vuole non ci vuole e infatti tipo qua con la macchina non posso entrare chiaro eccolo qua a grifa E' un vero che c'è un veicolo così importante E' un vero che c'è un veicolo Ola Ok Quanto male è un carburante, vabbè Cos'è questo? Dobbiamo usare un'arma da mischia Affinità Affinità Infine di più danni un'arma da mischia Facciamo questa Vabbè, ma che è fondamentale Ok, confermiamo Quindi siamo in realtà, ok Che è successo? Siamo aumentati di livello di nuovo Che poi non c'è mai stato questo personaggio Grifan, non so chi sia Non so veramente chi è Però effettivamente deve essere Sì, ma che è di supero Lì c'è le altre macchine E' quello là Ah, dal nulla escono fuori quelli Ma mi sta bene Oh plano Ah no, mi sono ucciso ma non sono morto Qua è un altro Un altro Questa è la terra degli occhi rossi Quindi sono i porcostini Ok Ma che cavolo Così almeno se devo uscire in curva Andiamo avanti Ancora avanti Grandi Ragazzi Ragazzi E c'è un altro accampamento Che non hai segnato Questo è un accampamento? Questo? Che strano Adesso c'è una scala da rubare Ah no Si entra di là Attenzione Ma arriva gente Dovevo la cogliere con i baci a bracci E noi Li arpioniamo Ecco vedi? Ragazzi Si è malata a pesca Cosa si fa? Un po' come i toni Che si fioccano E noi Eh beh Cartucera piena Ok Cartucera Ah cartucera è quello dei Ok no no Non ho sbagliato E' un aperto storico Ascuccia Ok Nooo Si è ucciso da solo Così Ah 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 E' morto Amica Lo faccio spiaccicare Sempre poveraccio Dov'è la macchina? Dov'è la macchina? Dov'è la macchina? Dov'è? Ah quello lì Io sono sceso dall'altra parte Invece dove ho uscire di qua Senta lei Ah 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 Mi ha buttato sotto Guarda dove vai Adesso No povero Povero E' stato io Sono mortificato Ma dai ma non è Da ma poverina Non è colpa tua Noi intanto Facciamo tipo le fiocine Perché non ho voglia di scendere Non lo voglio, preferisco fiaccinare così, non allontanare, 4 c'è addirittura, 4 eh, come è uno zarab, sento rumore, a me c'è qualcuno, che ha fatto, metto, ma, tuo, chi è? Quindi siamo a 1.400, però forse è arrivato a 1.500, 1.500 è difficile, eh, ok, 3, 4, un reperto storico, qua, eccolo là, che iniziano le cose fastidiose, che sono tipo queste, non è che devo cercare a vita una cosa, no, però è qua, no, no, è facile è stato, ok, è stato facile. Devo ammettere che stavolta è stato, non è stato difficile, eh, qua, usciamo fuori, Cos'è quella roba lì? Ah, bello, c'è sta pesa, ok, lì ha spaventato batteri, che ora costruiamo il fuoco, Ok, lì abbiamo, ok, lì abbiamo da fare. Questo è stato fatto un articolato, come laera, biada, duele dollari, cosa aspenso non è sicuramente, è essenzialmente Rafi, o potrebbe che fare, non è possibile? Non è bu探 звare, cosa passerà o itu, eh, non è non è possibile,黒 ai turni passi. S'reIl si sa bene,�rì Dragons, è comunque oggi, non è sicuramente fatto come se, quanti sono �eggi morta del campo, vedo, iscrivitiiki. Ecco, qua veniamo da no a fare i furli. Ha ha ha, arpionato. Era un cecchino, quindi niente alla fine, l'unico è qua. Però lì rimane lì, ma lì non riesco a trovarli, quindi boh. Mi riesco a trovarlo. Ok, andiamo di qua allora, andiamo verso giù. Guardate che luna rossa, bella. Bella, bella proprio la luna rossa così. Bella, ciao, come va? Tutto al posto, tu? Tutto bene? A posto? Guarda che avvolgiamo un po' di casino, ragazzi. Eh no! Se sapevo tirai d'avo finito dopo. Eh ma figurati, guarda, tanto sono qua per questa quarantina, sei sempre qui, stai tranquillo. Ma vabbè, ma vabbè, ma vabbè, ma fa lo stesso. Ah 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 ah, ma fa niente, guarda. Ah ma non preoccuparti. Io mi sono un po' tirato, questi giorni, ma ho avuto un po' da fare, ho avuto qualche problemino. No, ma vabbè, ma vabbè, tranquillo. Oh 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 oh. No no no, ma che cavolo? Li arpioniamo come cosi. E a questi lì li investiamo. Mamma. No, infatti c'è... Abbiamo arpionato. Ah, vabbè, c'è un altro. C'è altri due. Tiè. Qua. Guarda, 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 guarda. Ah. Tupple. Ah, ho rotto il collo. Che pesante sta cosa, oh. Pesante sta cosa. Attenzione, uno. Basta. Ah, c'è ancora due rotta. Bello. Ehi, signori. Mamma mia, li hanno appesi come dei maiali. E qua ci sono gli altri. Una forza comune. Wow. Un pozzo di periodi morti. Fammi togliere. Fammi andare via. Però in realtà... Ma scusate, io devo fare un'altra cosa. Infatti, la strada... La strada è un'altra. Perché sono finito qui? Ma la strada, infatti, è diversissima. Ma... Boh, vabbè. Ma non è importante. Cioè, nel senso, alla fine... Proprio, ma questa valentina, ognuno ha gli orari completamente scombusti... Io stesso gli orari scombustolatissimi. Perché io non vado mai al pomeriggio in onda. Vado sempre all'ora di pranzo. Mai, assolutamente. Io vado sempre... O quasi sempre, tranne una volta o due settimane... Vado alle 13.30. Perché mi colto lavoro. In questo delirio... Vado al pomeriggio. Che, per carità, è una buona cosa. Perché ho aumentato un pochettino di persone. Però... Però... Mi trovo, forse, meglio, un'allorata. Perché quando c'è meno gente... Anzi, c'è meno, però... Magari ti... Ti... Ti trovano. Poverigio, ci sono tutti... E... Capire. Eh, un pochettino di... Poverigio. Tutto il mondo, qui, ce l'hai. Siamo tutti. Poi, purtroppo, la maggioranza... Prima. Eh. Non è il problema. Uh, li ho scheggiati. Li ho scheggiati. Ma, attenzione, che quelli non ci sono ancora a regna. Ce l'ho alle spalle. Come fanno a essere di veloci? Fa finire, addirittura. O se hai giusto quell'altra, quella di fantocchi? Questa è una macchina che è in spazio. È una macchina esplodiva. Ma anche qui non è quello che sto cercando. Non è quello che sto cercando. Sto cercando di fuochio. Oh, eccoci qua, forse. Proprio come volare. Beh, non proprio, però. Stiamo andando insieme a qui, quindi, che fa un mare di petrolio. Ok. Ok, vediamo. Stiamo facendo delle strade che non sono quelle, ovviamente. Perché, vedete, io sto passando da parte, ma anche quella. non è per tagliare. La strada è lunga, la metti vent'anni, arriva dentro. Vediamo un po'. Sempre dritto. Sta molto sempre dritto. L'unico modo è un po' la mappa che non metti a stando, però. No, vabbè. Ha la faccia del tagliare. Non è per tagliare la strada. Ok, vedete, lì c'è un pallino in lungo e dobbiamo andare al pallino. Sto praticamente distruggendo, questa madre. Povera madre. Ok, lì è il primo obiettivo che doveva andare. È il primo obiettivo. è un lavoretto per te, ma se ti muove. Questo non era una battaglia. Questo era un sforzo. Questi ruotatori cortarono i pezzi, devi trovare l'altro. Il secondo fuoco non è troppo distante, però, credo. Sempre dritto? Ma io non lo vedo sto obiettivo verde. Il pallino verde non c'è. Lo vedo io da lì, ma poi basta, già. Allora. Andiamo. Lo reseguiamo. Non so, non riesco a trovarlo come obiettivo. Però penso, no, aspetta, però forse quello è la cosa di Wumash. Mi sa. Quello verde. Quello verde, credo che sia allora l'obiettivo che dovevi fare, in teori, ma siccome voglio livellare ancora un po', credo che sia quella. Ok, vediamo qui. Sì, è quello. Intanto qua c'è una piccola attaccamento, piccolina. Noi stiamo in realtà cercando di arrabbarsi, eh. Tipo questo. C'è quello di prima e ci aveva dei rottami. Io non li ho visti perché, boh, ho soccecato o erano nascosti. No, ce n'è uno lì. Ma dov'è? Ah, questo qua ce l'avevo anche davanti, non l'ho manco visto. Uno? No, ce n'è un altro. Ce n'è un altro che dobbiamo cercarlo. sarà lì per forza. Non è gigantesco sto posto, eh. C'è un altro rottami che gira per di qua. Un po' se lo trovo. Ah, eccolo. Ma dai, ce l'avevo sotto il naso. Ma. ok. Attenzione, qua cosa c'è? Ah, c'è una un obiettivo. In questo momento sono qua e qua abbiamo una pedana. Ah, no, il fondo usa la rampa. Qual'è la rampa? Ma qual'è sta cavolo di rampa? Non c'è rampa qua. Non c'è rampa qua. Ma non c'è rampa, ragazzi, dai. Ma dov'è sta rampa? Io non vedo che è una rampa. Vedo soltanto qualcosa che non si può fare. Beh, bello. No, 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 è qua. Vabbè, ragazzi, allora, facciamo questa ancora, poi, cazzeggiamo la prossima volta. Non mi ricordo quando l'ho messo nel programma. L'ho messo, ragazzi, Chi è che è bulla, già? Oh, 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 chi è? E questo dove è arrivato? Sono un po' di qua, un po' di là, vabbè, portanto sei qua. Sei qua, sei là, sei giù, tanto, a mezzo di rete l'ho fatto. Peccato, purtroppo non ve la godete, ma, ognuno. Uuuuh, eh, easy proprio. Un altro campamento qui, a sto punto, mi occupo anche di questo. Ma guarda, che strada che è, allora, ma dov'è questa strada? Ah, è di sopra. Addio, funzioni la macchina, cioè, questa macchina vera, così, che la distruggono. Non c'è nessuno? Ah, ah, ci sono le taglione. ma pensa a te raga, poi ci vai sopra, ti ammazzo. Dai, chi è il primo? con lì si va a esplodere. Fatti. Ma pensa a Deo. Ecco qua. non c'è nessuno? non c'è nessuno? Ah, va be? No, non c'è nessuno? Ah, non c'è nessuno? Oh, allora! ma ho capito ma scusa non c'è altro due cose in croce che ci sono andate a fare allora in realtà noi stiamo cazzeggiando alla grande comunque salviamo novità attenzione noo giubbino di cuoio ok 200 un potenziamento ok oh no che schifo cos'è sta roba che schifo le annici gare in faccia con gli occhialini ah no vabbè questo nuovo perché che schifo col coltello garage ah ma allora ok mamma voi sto schifo ma è brutissimo ma così colore colore è brutta forza nooo giusto mi ero dimenticato delle tagliose ma è che brutta ma è per piacere ci chiamo di brutta salvataggio vabbè ragazzi vi do appuntamento a domani ciao